music never lies io a questo punto me la prendo con i gestori dei locali che pur di far cassetta fanno diventare le discoteche dei baracconi vorrei di circhi ma il circo inteso mettendone e i suoi artisti è un momento nobile dello spettacolo adesso in disuso per via degli animali però ha avuto tutta una sua storia ha fatto la storia cioè fate diventare le discoteche delle feste e l'unità o gestori lo so che i gestori di adesso sono tutti per lo più ex PR perché i veri gestori dei locali quelli della musica degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90 i gestori, quelli che gestivano non ci sono più Pierlu adesso ci sono PR che hanno fatto un po' di soldi hanno acquisito locali o quote di locali che giustamente da PR mentalmente cercano di far cassetta ma così fate diventare le discoteche dei baracconi ormai è tutta una baracconata Pierlu, tu volevi la puntata incazzata Pierlu eccola qui Pierlu ormai le discoteche se non sono gestite da persone che hanno la musica nel sangue sono delle baracconate sono delle baracconate capito? e tu mi dici ma te che tu fai dj vivi nelle discoteche? sì però io adesso che non ho più come ti posso dire l'esigenza di dover dimostrare qualcosa eccetera eccetera perché ormai sono tantissimi anni che faccio questo lavoro ma che devo raccontare ancora Pierlu? va bene adesso le scelgo cioè mi chiamano vuoi venire qua? che musica volete fare? cioè che tipo di serata vi servi? io faccio house volete house? no ma qui sai ogni tanto un pezzo reggaeton ecco è un vengo tu chiami il djino da 50 euro che ti scari ai 20 pezzi più bellini delle classifiche e all'una avete chiuso poi ti arrivi te e ti fanno come mai la gente balla fino alle 4 perché tra fare il dj e essere un dj c'è differenza tra mettere musica e far ballare c'è differenza ragazzi avete rotto i cogli veramente c'è le discotee ormai sono arrivate sono alla frutta ve lo dice Mario Mangiarano quello che il 25 febbraio del 2023 è sempre se siamo tutti su questo pianeta va bene fa l'ultima serata e poi vi va nello dopo 40 anni e passa di onorata carriera ho fatto ballare in mondo capito? capito Pierlu? va bene ciao Pierlu ciao Pierlu grazie music never lies sui! 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 Grazie a tutti.